ma è video? è già attaccato è video? si è video, sto facendo il video stai tagliando qua vieni vicino vieni più vicino fantastico fantastico davvero si bravo vai bella torna quando hai 10 kg in più prendo quando hai 10 kg in più guarda che si riprende si si ciao bella grazie meravigliosa grande grande non piangere con guardia costiera adesso la lezione non piangere